Signore e signori buonasera che vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'alta tele di lavoro e come il nostro sogno di martedì dedicheremo un'ora alla nostra bella amata terra, al nostro ben amato regno parlando di arte, di cultura, di identità e questa sera abbiamo un ospite veramente particolare sui generis che capirete dopo questo breve video che lo presento. Grazie a tutti. 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 le mamme sono croce e delizia della nostra terra, delizia perché sono così amorevoli che nessuna mamma al mondo e sono come le nostre. Croce anche perché loro sempre la ricerca di questo riscatto sociale, hanno sempre cercato di farci entrare nella modernità, cancellando il passato, utilizzando la zambogna, la zambogna dei pastori, di cafoni o dei briganti. Certamente, in un primo momento si vergognava, però dopo ha capito il lavoro che io ho fatto e non si è più vergognata, anzi ha saltato addirittura ciò che sono riuscito a fare. Beh c'è da dire questo, che non dobbiamo nemmeno dimenticare che la zambogna è anche lo strumento di nostro signore, zamboni e ceravella, quindi sono gli strumenti, non è una cosa da poco questo. No, no, assolutamente no. Vedo stare a uno strumento che afface nella sua semplicità che poi non è più tanto semplice adesso direi, adesso è complicato, sia nella costruzione anche nell'esecuzione di questi luoghi repertoni che non sono soltanto i miei, ma i tanti altri amici che hanno a cuore questo strumento. E lei prima di parlare di un altro mondo, Marco con mezzo, ma tanti amici. Anche Dino Dell'Undo abbiamo intervistato, sono andata a casa sua ma ha fatto vedere un repertorio di zamboni incredibili, uno studioso e un cultore da quel di Santa Francesca di Veroli. Poi parleremo di questo. Ditemi una cosa, quindi voi da piccolo sono avate la zambogna parallelamente ai vostri studi oppure di di stramacchio non facendosi chiedere la mamma. No, no, no. Io dunque da piccolo studi, proprio da piccolissimo ho iniziato all'età di sei anni a studiare la fisarmonica in un'accademia a Campobasso. Da Campobasso poi mi sono trasferito a Disernia. Nel momento in cui mi sono trasferiti a Disernia, quanti Sernia è diventato provincia, hanno aperto il conservatorio a Campobasso, figuriamoci, tutta questa storia così particolare. Io al conservatorio ho studiato addirittura il flauto, che ha nulla a che vedere con la zambogna. Però questa passione ce l'ho sempre avuta, per cui diciamo che una trentina di anni fa mi sono avvicinato a questo strumento, a questa zambogna e non l'ho lasciata più. Proprio nel vostro patrimonio genetico non c'è niente da fare. Sicuramente sì, sicuramente sì. Io frequentavo un mio zio che abitava a San Polo o Matese, perché aveva una strana cantina, una cantina con delle botti enormi di vino, e lui aveva questa zambogna che addirittura diceva zambogna da 90. 90 era la misura della canna più lunga. Era una zambogna grossomodo in re maggiore. Lui la suonava molto molto bene. Da allora è venuta la mia, ma tanti anni fa, la mia passione per la zambogna. Perché prima in verità non l'avevo considerata. Prima, così nella mia età, quella più giovane, ho suonato con tantissimi gruppi, addirittura musica molto molto moderna, con musica elettronica. Poi mi sono avvicinato a questo strumento e ho abbandonato, sicuramente ho abbandonato la musica elettronica per dedicarmi a questa musica più normale, direi. No, vabbè, io faccio domande a braccio, perché poi tra l'altro voi mi avete detto che siete diplomato di conservatorio per la fisarmonica, giusto? No, dunque, non esiste un diploma, cioè sì, esiste poi. Io ho studiato per nove anni la fisarmonica in un'accademia e ho studiato per cinque anni al conservatorio del flauto. E addirittura un paio d'anni anche il contrabbasso, sicuriamoci. Io ho fatto un percorso musicale strano, però questo mi ha permesso di capire un po' tutti gli strumenti e mi permette anche di comporre in funzione della mia esperienza passata. Ma riesci a ricordare, visto che c'è la zampogna là vicino, si ricorda? Ci vuole far sentire venti secondi quei pezzi che suonava da piccolo quando stava nella cantina di vostro zio? Dunque, da piccolo quello che suonava mio zio. Eh, puoi farcela sentire? Eh, vabbè, se quelli sono brani assolutamente tradizionali, in pratica suonava la novena, la novena del Natale. Eh, ce lo faccio sentire, maestro. Va bene, ci provo. Grazie a tutti. Eh, non manca molto a Natale, maestro, anzi all'Immacolata, che poi sono con i zampognari e cominciano a suonare per l'Immacolata. Eh sì, 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 sì. Ho fatto pure qualche esperienza del genere, andando in giro con degli amici. È stato fantastico, devo dire. Un anno ho seguito, l'ho pure ripresi, eh, Angelo e Domenico Fusco che hanno fatto le novene a Caivano. E devo dire che nel napoletano, in campagna, ancora è sentito molto la zampogna come, come strumento di Dio, veramente. È una cosa incredibile, un'emozione incredibile, eh. Qualcosa di eccezionale. È stata un'esperienza veramente bella. La campagna sarà sempre una meta straordinaria per noi zampognari, insomma, eh. Eh, ma... Eh, ci mancherebbe altro, è chiaro che sì. Una volta, una volta anche qui, però qui la... però adesso la modernità sta facendo dei clamorosi passi indietro, soprattutto quando... Grazie a voi e molti che vi hanno, che vi stanno seguendo. Non stanno cancellando l'inità, perché vi spiegai, quella volta vi leggerà la differenza, secondo il mio modesto parere, tra identità e tradizione. Tradizione la fate voi, l'identità è quella che avete suonato prima. E quindi l'uno si nutre dell'altro, perché l'uno non esclude l'altro. Uno non escluderà, sicuramente è così. No, l'identità sta in un tempio e quindi va preservato e soprattutto voi tradizionalisti andate ogni tanto ad attingere dal tempio per continuare ad andare avanti, per chi sia avanti. Una curiosità, voi, tra l'altro Polo Matese, perché noi sappiamo che Polo Matese copre due regioni, no? Quella del Molise e quella della campagna, una volta era area di lavoro pure là. Ma sì, certo. Voi avete suonato anche un altro strumento, la fisarmonica, che un po' ha avuto lo stesso destino della zampugna, considerata uno strumento folcloristico, adesso invece insieme alla zampugna sono considerati degli strumenti che vanno a corte ed è molto difficile da suonare, o mi sbaglia? No, 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 nessuna esora, ci mancherebbe altra fisarmonica, ma tra l'altro è entrata anche nel conservatorio come disciplina, per cui insomma una volta era come dice lei, ma adesso non più, sicuramente. Soprattutto la fisarmonica, come si dice, non quella a tasti, quella a botto uguero. Insomma, la fisarmonica è uno strumento meraviglioso che ti permette, io sulla fisarmonica e questo mi ha autato moltissimo, devo dire, perché la fisarmonica, a differenza di tanti altri strumenti, per esempio con un plaudo come uno strumento che ha una sola nota, ti permette di capire già da subito le armonie e la melodia assieme. Eh sì, basti pensare che adesso, in campagna, è ormai la fisarmonica, li vedo, la vedo suonare nelle tamburiate. Sì, sì, la fisarmonica ha utilizzata un po' dappertutto, anche nell'orchestra, adesso riserva che è uno strumento meraviglioso, non perché la faccio studiare, ma perché è proprio... Io sono ignorante, maestro, ma mi dicono che è molto difficile da suonare la fisarmonica. Beh, tutti gli strumenti direi che sono difficili, dipende da come si vuole studiare, qual è il livello che vogliamo raggiungere. Ci sono delle parti difficilissime, della fisarmonica, delle trascrizioni straordinarie, difficilissime, poi ci sono delle cose ovviamente più semplici da eseguire. Maestro, una cosa, voi avete iniziato, queste famiglie, io poi sto cominciando a imparare le varie forme delle zampogne, la vostra prima zampogna com'era? Che legno era? La sacca com'era? Poi era zoppa? Era com'era? La prima zampogna l'ho acquistata da Ascapoli, da un famoso costruttore, quello che mi è rimasto nel cuore, Gerardo Guateri. Questo signore, quando io ho acquistato la mia prima zampogna, aveva a disposizione un vecchio tornio a pedale, addirittura, e faceva le zampogne con un vecchio tornio a pedale. Dopodiché, per così dire, si è modernizzato applicando un motore di lavatrice, addirittura al suo vecchio tornio a pedale. La mia prima zampogna era assolutamente una zampogna tradizionale, con le note basse, per chi si intende di musica, con toni che è dominante, in pratica i famosi due accordi, due triade, due accordi che si possono eseguire in pratica su tutti gli strumenti, su tutte le zampogne tradizionali. La mia zampogna era costruita con un legno di un po' ulivo, la mia prima zampogna era ulivo, e le campane in un altro materiale che non ho mai saputo cosa fosse, perché non mi ha saputo dire nemmeno il costruttore, perché aveva un pezzo di legno e ha realizzato appunto queste campagne. Questa zampogna aveva un'oltre, la prima zampogna aveva un'oltre di pelle, e che mi ha dato davvero molti problemi, perché purtroppo la pelle naturale è soggetta a seccarsi, quindi a spaccarsi e non dare quell'esigenza che invece noi musicisti abbiamo, questo è un zampogna, di tenuta appunto dell'aria, dopodiché anche questo costruttore, anche Gerardo Guadere si è dotato di, praticamente dalle camera da, la camera d'aria di automobili, poi forse di furgoncino, quello un po' più grande di quelle automobili, di furgoncino. Quelle dei camion? Quelle dei camion? Ah no, proprio che a camioncino, quella a metà, a metà, non troppo grandi, e chiaramente ricoperte queste camerate, ricoperte da pelle, da pelle, ecco. Questa ovviamente da quel momento in poi non ho avuto più problemi di tenuta sulla zampogna, e adesso la mia, quella che fa prima, io costruisco il zampogno, la mia è fatto lo stesso, lo stavo con la camera a dare, perché ti tengo più attivo, la differenza del quindecco, si affieva, è ricoperto ovviamente da, o da pelle, o da vellunto, o da soffro. Ah, quindi la fa di camera d'aria, quindi la fatta ancora. Sì, sì, per mesi, io sono appena, è una questione da qui tutti, no, 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 perché cazzo non vanno, ma sicuramente tutto, l'importante è che proteggono l'aria, che... Mi piace, mi piace questa cosa, che poi, molto bevende nell'antichità, siccome poi erano i pastori, quelli si cambia, secondo me cambiamo l'oltre una volta l'anno, no? Eh, penso di sì, almeno, in base alla mia esperienza, sì, in base alla mia esperienza, sì. Però oggi cambiare l'oltre una volta l'anno non è cosa semplice. No, no, io sono la sola zampogna mia, quell'oltre ci stanno, lo so, saranno dieci anni, forse anche di più, e non mi ha dato mai problemi, assolutamente. Io sono la camera d'aria anche per una questione di peso, di bilanciamento, perché le altre sacche, quelle che vedo realizzate in Windex o altri materiali, in Coretex, sono molto, molto leggeri, sembrere, vabbè, è solo una questione di abitudini, non perché non guarda. Perché non prende la sua zampogna e ce la fa vedere così, ci spiega a mano questo che ci ha detto? Ecco, vabbè, smontare la camera d'aria, cioè, fare questa tacche, sarebbe un po' proprio di mezzo. Vabbè, la mia zampogna è fatta in maniera un po' diversa, io utilizzo il legno di sorbo, perché ritengo che sia uno dei migliori legni che ci sia in zona, soprattutto è molto, non è poroso, è molto, molto duro, si lavora facilmente e diventa molto, molto lucido alla lavorazione. c'ho dei, così, io metto questa parte di osso per abbellirla, anche la testata l'ho fatta in questo materiale di osso, perché... Osso di cosa? Osso di cosa? No, questo è un osso finta, non è un osso vero. Ah, ho capito. Diciamo che il materiale è il bottonio, eh, quella pasta, quel resino... Ah, sì, sì, ho capito. Dei che sia, appunto, per il bottonio. È molto bella, sì. Sì, è molto bella e chiaramente ha il colore di un osso, di un osso vero, però questo mi garantisce, insomma, che non si romperà mai, non si spaccherà, perché qualche volta è successo sulla testata, la zampognazionale, qualche fessura, qualche venatura, in pratica che poi bisogna sostituirla, questo qua è in pratica eterna perché non si romperà mai, che manutenzione ci fa la zampogna? Dunque, la mia zampogna ha manutenzione zero, perché a differenza delle zampogne costruite tutte in legno, ha qualche particolarità, qualche innovazione, magari la faccio vedere se... Sì. A parte il teflon, ecco qua. praticamente io ho, qua ci sta la parte bianca e il teflon, però la parte bianca si copre un tubo, un tubo scuro, un tubo nero, questo, questo tubo nero è carbonio, è grafite, praticamente io lo inserisco nelle gambe, questo mi dà una grande garanzia di tenuta e stabilità, perché ovviamente non risente né di temperatura né di umidità, per realizzare questo tubo ci ho messo tanto, 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 questo tubo e carbonio ho dovuto ordinare con delle misure ovviamente molto molto particolari, in base all'esperienza che ho fatto in tanti anni, con tanto legno consumato e buttato, perché chiaramente la zampogna deve funzionare con, almeno con queste mie, con una conicità molto 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 precisa, questa conicità che ho sperimentato mi permette non solo di suonare le note semplici, normale dei fori digitali, ma anche le, faccio l'esempio sul pianoporte, la zampogna tradizionale, la zampogna tradizionale, la zampogna ha sottato i tasti bianchi, la zampogna mia non solo ai tasti bianchi, ma anche quelli neri che stanno in mezzo a quelli bianchi, facendo l'esempio su un pianoporte, quindi io ho la possibilità, con questo canneggio, con questa conicità particolare, che praticamente ho scoperto nel corso degli anni, nel corso delle mie esperienze, di poter suonare anche i cromatismi, quindi anche le note nere del bianchi, questo ovviamente mi permette di arricchire notevolmente l'impianto armonico dello strumento, che prima era soltanto tonica e dominante, quindi due accordi tradizionali, adesso non riesco a farne più di una, insomma circa una tozzina, e c'è stata un'altra modifica, abbiamo una modifica importantissima, il famoso Bordone, il Bordone, il Bordone, il Bordone del mondo, si intende quella canna che è capace di mettere tutto suono, io ho forato il Bordone, ho forato il Bordone, quindi ci sono due fori, non soltanto due fori, ho applicato anche una chiave, quindi per fare un terzo foro, questo mi permette di suonare, invece che una nota, mi permette di suonare quattro note, e queste quattro note sono fondamentali ovviamente per amplificare appunto questo impianto armonico e quindi, quindi, la tradizione arriva cerca uno, poi dipende perché insomma, c'è anche il problema della realizzazione della scrittura della musica, laddove manca qualche una da meglio, poi c'è un gruppo, mi faccio aiutare da altri strumenti, ovviamente. Eh maestro, mi dica una cosa, cioè lì quando si mette i fori, lì esce fuori il compositore e il musicista di fisiarmonica, quindi tastini e tasti bianchi, ma come è arrivato a pensare che là ci volesse il carbonio, cioè tu chi, qui parliamo a questo punto di una conoscenza culturale a 360 gradi, eh? No, 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 niente di particolare, io ho avuto ovviamente in precedenza zampogne di legno. Ho avuto qualche difficoltà, chiaramente, con i cambiamenti di temperatura, di umidità, soprattutto se sono, io sono nato una volta a Capracotta, Capracotta è famosa perché almeno è in Morise, perché è un paese che sta molto 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 in alto, un'altitudine più di mille metri. È molto molto freddo. Eh certamente, è molto molto freddo, molto molto freddo e queste variazioni di temperatura e di umidità ovviamente incluiscono sul regno, almeno per quella che è stata la mia esperienza, già che io non ho mai suonato da solo la zampogna, ma mi è piaciuto sempre farmi accompagnare da amici, quindi ho avuto sempre dei gruppi musicali che magari avevano in organico una fisarmonica o un organetto che hanno un'intonazione molto precisa, io avevo l'ecigenza, chiaramente, anche sulla zampogna, di mantenere questa intonazione precisa. Questa intonazione precisa, il legno, insomma, con il legno mi ha dato sempre qualche difficoltà. Il carbonio, ovviamente, non soffre di umidità e di temperatura e io, insomma, posso suonare almeno da tantissimi anni utilizzando questa, questa esperienza e sto suonando d'inverno, d'estate senza avere grossi problemi. E anche il discorso poi legato alle ance, perché le zampogna tradizionali avevano ance costruite in canna, costruite in una maniera estremamente artigianale, spesso le ance sono anche queste, tutti le fanno, tutti sono in plastica, per cui insomma hanno meno problemi, anche se la qualità del suono in verità non è proprio la stessa cosa. Le ance tradizionali, quelle in canna, sono molto più bassi, sono molto più bello, molto più tradizionali. Però bisogna anche adattarsi perché questo adattamento poi ci permette di non avere problemi di indonazione, soprattutto quando si è un po' in artesia. Eh sì, quindi comunque ti percuro tutto nel minimo e particolare, però giustamente riconosce pure il fatto che anche se la modernità, anche se il contemporaneo ti dava delle soluzioni che il passato non ti poteva dare, invece il passato non dava, però comunque la qualità del suono riconosce che è meglio fatto con i strumenti di una volta, con i mezzi di una volta, però è più complicato da gestire. Sono assolutamente d'accordo, lo strumento di una volta aveva una, un suono meraviglioso, pastoso, bellissimo, molto 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 affascinato. Adesso purtroppo bisogna ricorrere a questi spedenti per evitare i problemi dell'esigenza di un musicista, tutto quanto. Sì, sì, ho capito, no, ma in maggio sempre comunque una volta il pastore che aveva, non aveva, aveva molto tempo quando doveva stare dietro i suoi greggi, il tempo ne aveva, oltre che guardare il suo bestiale, ma anche poteva tranquillamente manutenzionare meglio la sua zampogna. Eh, ma infatti si dice sempre, perché questa è la solita frase che ricorre, che lo zampognaro passava metà della sua esistenza ad accordare lo strumento e un'altra metà sono a stonare, insomma, questa è una cosa... E l'altra metà? A stonare, stonare, sono scordato, voglio dire perché, insomma, la manutenzione di questo strumento tradizionale non era facile. Poi, ovviamente, dipendeva anche dalla capacità di ciascuno, non tutti erano veramente capaci di metterla a cuore, di intornarlo alla perfezione, eh? Eh, non so, posso... Si muoveva un attimino, appunto, soffriva da questi spazi di temperature e di umidità, motivo per cui, insomma, bisognava stare sempre dietro, sempre tenere lo strumento sempre in caldo, sempre umido, bisognava suonarlo sempre... Se si lascia uno strumento tradizionale per un po' di tempo, appena si riprende e ci sono problemi grossi, poi, insomma, piano piano, piano piano, poi... Eh, gli strumenti sono molto... Sì, sì... Prima di... Perché sono pieno di domande da farvi, un pezzo, fuori suonarci un pezzo ancora? Un altro 30 secondi? Eh, perché no? Un pezzo che ho fatto un po' di anni fa, che si chiama Nuova Musa. Nuova Musa vuole significare Nuova Zambogna, con queste possibilità armoniche un po' diverse da quelle... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Voi come costruttore pensate di essere arrivato alla fine della vostra costruzione della zampogna o pensate di fare ancora delle modifiche? No, 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 non lo so, le modifiche, io non ho costruito mai una zampogna uguale a un'altra. Ci sono delle piccolissime modifiche tra uno strumento ad un altro perché ritengo che anche la mia zampogna ha qualche difetto. Tutte quelle che faccio hanno qualche piccolissimo difetto, io cerco di migliorarlo cambiando le misure in modo micrometrico, cercando ovviamente di migliorare il tutto. Non è facile perché la costruzione è la costruzione, la costruzione è la costruzione, non uso strumenti di altissima precisione, ma ho tutto fatto a mano, tutto fatto a mano, tranne il carbonio ovviamente, tranne il carbonio che è molto 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 preciso perché è stato fatto a me che sono stampo, per cui tutti questi tubi sono assolutamente identici. Ma voi sapete, voi maestro sapete che la bellezza risiede nell'imperfezione? Eh beh, sì, sì, questo è vero, non mi auguro che un domani ci sia una zampogna a Yamaha, è meglio fatta quella dai costruttori, è meglio fatta quella fatta a tutti noi. Vabbè, come dice il maestro amato, nella musica del sole che ci ha fatto conoscere la differenza tra la musica camuffata e quella autentica, quella naturale, la Yamaha, credo che faccia soltanto strumenti che hanno bisogno di una presa elettrica, la zampogna non credo che riuscirà mai a fare. Fa anche, fa anche altri strumenti, strumenti affiati, ma non ci mancherebbe, è una erodità straordinaria. No, ma è un fatto di concetto, la zampogna deve essere più nostra e meno industriale, insomma, guarda tutto qua. Eh, ma non credo che ci siano, non crede che ci sia la produzione industriale della zampogna? No, 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 questo non c'è perché probabilmente a zampogna non è un pianoforte, voglio dire, non è un vasto scritello dell'interesse di un plaudo, di un gladinello. Anche perché secondo me avrebbe dei costi di produzione industriale altissimi, eh? Ma può darsi, ma sì, sì, perché il problema è quante zampogne possono essere vendute in un anno e soprattutto dove si utilizzano zampogne. Non lo utilizziamo, non lo utilizziamo, non lo utilizziamo, non lo utilizziamo, anche al nord cominciano ad essere molto utilizzate, però insomma, non possiamo farvi paragonare il numero dove la zampogna è venduta e realizzata rispetto ad altri punti di un'azienda. Diciamo pure che uno zampogna si affeziona molto al suo strumento, è capace di tenerselo per molti anni e non cambiarlo, quindi un investimento per fare una produzione in serie di zampogna sarebbe anche un azzardo imprenditoriale. Ah, credo. I zampognali sono legatissime proprio a zampogna, cambiano 1,5, 1,6, anche 10 anni la camera. Assolutamente sì, ma la zampogna è uno strumento molto proprio, non è uno strumento che puoi comprare in negozio così, è una zampogna che va realizzata, va ordinata e insomma è diversa da tutto ciò che è altra. Una propria creatura diventa? Beh, direi proprio che sì, direi proprio che sì, è proprio una propria creatura che si tiene gelosamente, tutti gli zampognali hanno veramente a cuore il proprio strumento, questa è una cosa bellissima, è vero, l'ho notato, va a tutti e tutti. Poi ci sono diverse, così belle, così ci c'erano delle costruzioni straordinarie, a parte, meravigliose, meravigliose, meravigliose. Sì, sono essenziali e tendono più a risultato sonoro, ma ci sono anche delle lavorazioni meravigliose, deve anche del campane inciso. Ho visto delle cesellature, una cosa straordinaria, assolutamente straordinaria, io non sarei mai capace di fare una cosa, e me ne dispiace purtroppo, ma sono bellissime. Maestro, maestro, lasciate qualcosa pure a qualcun altro. No, 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 no. Sentite, maestro, io ho il mio carissimo Raimondo, che fu il primo che mi ha nominato Piero Ricci, ha curato la sigla di questa trasmissione che vi segue da anni, ha detto guarda che Piero Ricci è stato quel primo che ha rimesso in moto la questione della chiave e che poi è stata adottata, ha fatto nuova, ha riportato la chiave nella Zambogna, poi le altre, la società. E mi parla sempre di questa famosa Zambogna Zoppa, che non sono quasi più nessuno, ma perché? È difficile, è complicata? Cosa c'è di particolare? No, 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 probabilmente perché è un repertorio, forse è un repertorio più limitato, tutto qua. Mentre con questa Zambogna, con queste nuove caratteristiche, perché appunto con queste nuove note a disposizione, c'è questa nuova ricerca, quindi questo nuovo repertorio, che quindi non si limita solo a fare il tradizionale, ma si affaccia a fare cose diverse più, più nostre, più moderne, tutto qua. Vabbè, quindi è una questione di evoluzione, insomma? La questione di evoluzione e di possibilità armoniche e melodiche. La Zambogna Zappogna tradizionale è bellissima, è come si fa a non considerare ciò che è stato? È stato tutto troppo bello, meraviglioso. però ovviamente adesso abbiamo a disposizione strumenti che hanno la possibilità di suonare di più e non soltanto come strumenti solisti ma anche tutti poi parleremo anche un attimo della vostra orchestra che è eccezionale ma secondo voi Paesiello ha fatto qualcosa di incredibile nel 700 componenti musica per Zampogna io lo devo ringraziare perché Paesiello mi ha dato la possibilità di suonare alla scala di Milano con Riccardo Muti in questa opera meravigliosa La Nina che si chiama La Nina insomma c'era questa parte per Zampogna che solitamente veniva usata o meno come mi disse il maestro Muti da due opoi e un facotto proprio per l'impossibilità di avere uno strumento molto molto preciso all'epoca perché gli strumenti tradizionali erano quelli di cui abbiamo parlato prima e quindi il maestro Muti mi chiamò e abbiamo telefonato e dovetti fare ovviamente un profino per dimostrare la possibilità che avevo io con la mia Zampogna di suonare quel tipo di ripertorio eh ma maestro eh voi sapete che eh vabbè Napoli che non è ancora oggi ma a quel tempo comunque era il centro del mondo per la musica e per la cultura e Ferdinando IV era una persona molto corta se non avesse se non gli fosse piaciuto la Zampogna a corte non ce l'avrebbe mai fatta arrivare ah beh deve dire sì calcolate che Mozart dovette tornarsene a casa che diceva disse Ferdinando sapete quando Scunizzi voglio un giro di Teng che stanno suonare meglio Mozart quindi per capire che lui era molto esigente non fece solo fu l'unico re e credo che sia stato l'unico re credo non ho provato a sbagliare in quel tempo che non ha fatto suonare Mozart la sua corte il padre sono dovete riportare a casa perché lui era molto molto esigente quindi credo che se decise di far entrare la Zampogna a corte vuol dire che non soltanto il costruttore doveva essere una cosa eccezionale ma forse anche il musicista perché immagino di come era proprio il musicista o no credo che pure quella è per barco direi proprio di sì per forza per forza per forza ebbè poi l'esigenza di corte era quella che era non si può il San Carlo era il centro del mondo San Carlo è il centro del mondo San Carlo è il centro del mondo quindi immagino che poi l'ho sentito quel pezzo che abbiamo messo sul nostro che lo sono Marco Iamele bellissimo quel pezzo di Paesino una cosa incredibile ditemi una cosa una parola sulla ceramella che è la sorella che è la sorella maggiore o minore della Zampogna no 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 dunque il problema della ceramella non è assolutamente il problema la ceramella esiste perché la Zampogna quella almeno tradizionale non era in grado di fare delle melodie importanti proprio perché aveva pochissime note a disposizione i famosi due accordi per chi si intende di musica di tonica e di dominante per cui non era in grado di fare della melodia motivo per cui c'era bisogno di qualcosa quindi come la ceramella o la voce che facesse appunto il canto che integrasse che allargasse la possibilità di cantare di fare una melodia tutto quanto la ceramella è importante è stata importantissima proprio perché eseguiva il motivo principale mentre la Zampogna era di accompagnamento alla ceramella ah ecco la zampogna faceva gli accordi diciamo così in maniera vocale la zampogna faceva gli accordi invece la ceramella faceva il canto non è che adesso con questo nuovo metodo di suonare la zampogna questo nuovo strumento la ceramella andrà in crisi no? non credo no non credo proprio la ceramella avrà sempre il suo ruolo avrà sempre il suo ruolo ci mancherebbe io nel mio gruppo non uso la ceramella non uso altri strumenti ma la logica è assolutamente la stessa la zampogna comunque rimane uno strumento armonico anche se le melodie adesso sono esaltate rispetto alle zampogne tradizionali però basta capire e quindi perché nella mano destra abbiamo 5 vita 5 vita significa che se si può eseguire un'altra del massimo questo è l'estimante non che io di 6 no invece la ceramella ce l'ha decisamente superiore ha molti più note è messo ditemi una cosa adesso parliamo del poi chiudiamo col vostro gruppo parliamo della vostra il vostro successo aver portato una cattedra l'unica e prima in europa che si insegnare zampogna mi sbaglio ci racconto di questa questa c'è stata questa questa bella soddisfazione che ha avuto grazie ovviamente al conservatorio che ha recepito questa questa scelta che ha fatto che ha fatto l'europa di dare dignità di dare considerazione anche la nostra tradizione io ho concorso sia per così nella regione nella nostra regione regione murise che in apruzzo ho vinto il bando sia all'aquila che al conservatorio di campo basso all'aquila purtroppo il bando è stato vinto da me nel periodo del del codice per cui probabilmente non è stato più possibile realizzare questa esperienza invece ho cominciato quest'anno a campo basso o degli iscritti o degli allievi e mi sento una responsabilità enorme perché se questo progetto va bene vuol dire che probabilmente continuerà altrimenti se farà sarà stata tutta non lo so un'esperienza assolutamente drammatica e tragica per me io ce la metto tutte ce la metterò tutte perché ci ho sempre creduto continuerò a crederci e speriamo e speriamo speriamo bene davvero perché ritengo perché no che la nostra tradizione a parte debba essere considerata anche dalle istituzioni come sta facendo appunto il conservatore di campo basso quanti scritti ci avete adesso dunque per il momento ci sono quattro iscritti quattro iscritti ma ce ne sono tantissimi non tanti tantissimi in via di iscrizione perché purtroppo quando si è aperto non era da tutti proprio non era conoscenza di tutti questa questa possibilità io sono certo che in seguito ci sarà addirittura probabilmente l'apertura di una nuova cattara da dei detti di una seconda cattara di zampogna per l'interesse che c'è verso questo strumento è uno strumento meraviglioso meraviglioso che veramente è tornato dire poi a nanzorre e lo mettono il titolo ma è tornato è tornata a nanzorre e la zampogna grazie a voi soprattutto grazie per questa grassa considerazione che avete perché insomma ma non è ma sono i fatti maestro non è che io posso e poi d'altronde dove vado adesso quando vado vado in giro quando si fa tutti i vostri i ragazzi posso dire i ragazzi e quando si va da pieno ricci alzo tutti quanti le mani ho cominciato prima degli altri gli altri adesso sono sono assolutamente bravissimi davvero bravissimi ma infatti credo soprattutto quando uno quando uno fa soprattutto poi opera di didattica diventa un maestro vero è la più grande soddisfazione quando trovate gli allievi che diventano più bravi di lui se no che se perché si insegna a fare sì ho degli allievi fantastici soprattutto un ragazzetto di 19 anni ragazzetto come 19 anni che è molto 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 bravo e insomma e ci tengo tantissimo che lui impari bene a suonare la zampogna solo a suonare ma ad andare volta a tramandare quindi a portare avanti questo questo progetto perché davvero difficile ma ha anche la mia esperienza personale e era impensabile qualche tempo fa di poter suonare in termini così di poter utilizzare la zampogna in termini di concerto vero e proprio la zampogna era ovviamente uno strumento per fare per fare uno vero ma non era forse nemmeno considerato uno strumento musicale vero e proprio no si faceva soltanto tradizione invece adesso con la zampogna si fa musica si fa musica si fa musica si fa musica e si fa musica del bellissimo sì maestro ma ti ripeto se paese non ha fatto diventare strumento di strumento di colto del san caro di corte per dire che l'esperienza straordinaria e fantastica purtroppo non ha avuto tanto 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 seguito e perché maestro dovremmo andare nella mia materia storica antropologica e sociologica quando quando ci fu l'avvento del progressismo e della moderna comunità d'italia si cercava di cancellare tutto quello che era tradizionale trasformandolo in folklore e denigrandolo oppure cancellando molti strumenti musicali la musica popolare pulcinella cioè andremo andremo in un discorso molto lungo ma siccome sono alla fine sono strumenti sono forze sacre anche quelle teatrali con la materia dell'arte non le mazzerai mai anzi quando rinascono nascono più forti di prima no ma come speriamo maestro la speranza la buona prima colazione ma la pessima cina quindi la speranza non ci sa no vabbè è troppo bene io ripeto ci ho dedicato almeno metà della mia esistenza e spero di continuare a suonarla fino a quando fino a quando chi lo sa utilizzerà addirittura ci stanno ci sono degli amici che hanno perché che hanno scoperto il sistema di alimentazione il musaire non so se lei ha avuto modo di conoscere questa questa persona che autorizza il sistema praticamente con una compressione con un soffio che ha alimentato dal motore elettrico per cui insomma anche quando non ce la farò più anche quando non ce lo farò più a suonare potrò utilizzare questo sistema di alimentazione lo sai come se il vostro primo costruttore con il motore di lavatrice ci sarà anche questa questo esperimento questo vuole vuole raccontare ai nostri spettatori a storia del motore della lavatrice è una storia molto molto semplice ho detto la prima Zalbogna che ho acquistato l'ho acquistata da questo giro di Guadieri e mi ricordo che aveva proprio il torneo a pedale ovviamente le rifinitore non erano straordinarie perché i giri il giro del torneo non erano molto non erano esagerati non erano moltissimi ovviamente il torneo più gira veloce più e la lavorazione si può fare con così facendo diventare la canna che suona molto molto liscia addirittura lucida se i giri sono pochi e lo strumento appare rubido appare grezzo e rubido e invece con questo motore di lavatrice lui chiaramente ha avuto l'occasione intanto di non forzare col piede perché poi bisognava andare abbastanza veloce insomma è un bel certo non proprio a zingolo invece c'è un fatto che dava molto attenzione al cuore interno dunque e addirittura sulla mia Zalbogna perché io ho avuto sempre le la mia zambogna dopo un po di tempo quindi la scuola musicale napoletana non è la scuola musicale è la scuola musicale si basa su due colonne portanti una sul dogma dove l'alunno deve sapere perfettamente il dogma della musica la seconda gamba sulla creatività no quindi era su questo si basava era preso si pretendeva questa queste due gambe il dogma e la creatività voi i vostri studenti su queste impostazioni di date vi permettete di fare quello è rigido e cadere un altro oppure a un metodo diverso di insegnamento dunque io cerco di trasmettere quello che è in tante è stata la mia esperienza cerco di far capire loro che la zambogna deve rispettare un certo tipo di rituale armonico e non stravolgerlo tanto le esperienze invece sono meravigliose fare esperienze anche con musica diversa con gruppi di va addirittura anche con gruppi rock anche con chitarrette che è una cosa meravigliosa purché si rispetti sempre quel rituale armonico caratteristico che ne so la zambogna è nostra in molisana e appartiene al centro al sud dell'italia e fare musica era proprio la zambogna infatti probabilmente non è quello che io mi aspetterei da lì ma anche se come esperienza è assolutamente fantastico ma non come come insegnamento che differenza ci trova tra la zambogna della molise dell'altra terra di lavoro che sono confinante noi sappiamo che sapete che poi da sempre adesso la menarde sono considerate molisane ma sono state terra di lavoro per per mille anni non sono le differenze o ci sono sono uguali no 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 ma tutto sommato l'impianto l'impianto organologico della zambogna quale un po per tutti ci sono queste tre canne che in pratica fanno il famoso accolatriate chiamiamo colgarmenti accordo e questo è fantastico perché noi nella nostra tradizione italiana abbiamo l'unica cor perché la zambogna una corna musa l'unica corna musa al mondo infatti in fondo che ha un impianto armonico e non melodico perché tutte le corna musa in pratica hanno un unico chantere con un galinetto che si suona con tutti i due le mani e tutte le altre canne che ci sono sono montate su questi strumenti non sono altro che bordoni quindi eseguono possono suonare un'unica un'unica nota fissa rispetto al canto appunto che viene eseguito col chantere l'unico chantere di questo insomma l'impianto l'impianto generale delle corna musa la zambogna è l'unica corda musa al mondo in fondo che ha un impianto armonico e non melodico non a caso la melodia veniva seguita come dicevamo prima dalla ceramella o dalla voce proprio perché c'era questa con questa armonia che veniva suonata dal nostro strumento che si chiama e invece tra i musicisti c'è una tecnica c'è differenza dal musicista molisano uno dell'altatario di lavoro oppure hanno tecniche di in qualche caso c'è una tecnica c'è un modo di suonare diverso a seconda la tradizione che ognuno ha di solito io ho ascoltato moltissimo le zambogna si tende molto moltissimo la lezione soltanto nell'ultimo periodo all'innovazione ci si è dedicata un po di più ma è straordinario la tradizione una cosa meravigliosa che va sicuramente apprezzata come sempre detto e ci sono dei brani tradizionali che rappresentano appunto la terra la terra di origini di quegli strumenti soprattutto delle zambogne più grandi e poi sono soprattutto quelle eseguite sulle zambogne più grandi quella addirittura c'è la sono dino dell'unto era aperta di lui alto e pensa che con la zambogna una persona ovviamente non si può pretendere un repertorio assolutamente rinnovare è molto fantastico meraviglioso bellissimo noi abbiamo fatto anche l'imparagra dal punto di vista visivo per belle è un quadro è una cosa sì è vero è in noi abbiamo fatto intervista maurizio tagliaferri di di alari se si sono una zambogna molto alta fatto abbiamo fatto intervista bellissima ci ha fatto sentire dei pezzi meravigliosi è uno sperimentatore se lo conosco benissimo ma abbiamo fatto una trasmissione molto seguita una persona straordinaria e ci ha fatto sentire tre pezzi con quella zambogna meravigliosi ed è un veramente una persona incredibile ed è uno scopertatore come come musicista non come costruttore però come musicista lui sperimenta molto bravo addirittura cerca di adattare anche i brani più noti si si trasferisce su questa zambogna anche i brani di compositori molto 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 come aveva come l'esperienza di marco tomassi con quella sordellina che è qualcosa di incredibile ha fatto qualcosa di eccezionale ma ma marco è una persona straordinaria per quanto mi riparta intanto cercherò che ho parlato pure con il direttore del mio conservatore di campo basso cercherò di farlo intervenire per fare una versione proprio su questo questo strumento che lui ha riscoperto si è uno strumento non abbia fatto trasmissione con lui non non so se lo avete visto abbiamo premiato a villa latina col premio dell'era boris si è fatto qualcosa di incredibile come costruttore ed è qualcosa di eccezionale poi sordellina napoletana veramente a lui la rimessa in piedi maestri ma poi con quello con quelle finita tutte quelle chiavette cioè quello con un strumento complicatissimo insomma molto molto non è per tutti quei strumenti no assolutamente non è per tutti ma poi è stato così così brava a ricercare praticamente a creare tutto e poi tutti quei meccanismi maestro l'ultima parte prima di salutarci a dedichiamo alla vostra al vostro gruppo ha fatto qualcosa di incredibile con il gruppo musicale che ha creato ce lo vuole ma se non ci vuole annunciare con un altro pezzo prima di parlarne qualche parola su questi gruppi perché non è stato l'unico ovviamente io ho avuto tantissimi gruppi però ci aspetti ce lo deve annunciare con un pezzo musicale 30 secondi e parliamo dei suoi gruppi musicali ma è il problema del gruppo musicale il problema che se sono da sopra non c'è troppo nella nostra stessa cosa va bene vedete un po non c'è troppo ma mesi che è caratterizzato di più anche perché ha un titolo molto molto importante che è la catena monotosa è mai nardi però questo per mille anni è stata terra di lavoro però fino a pizzone una terra di lavoro una cosa che volevo chiedervi ho sentito i vostri due pezzi poi vogliamo i vostri gruppi quella curiosità dell'ascoltatore avete fatto due pezzi uno matese e uno mai nato 222 catene montuose che si guardano certo quindi sono simili uno dice ma come si fa ad arrivare a fare due composizioni diverse con due montagne simili cioè che cos'è che differenzia che cos'è cioè che cosa ammette come fa a mettere quello che avete dentro in queste due in queste due tante montuose sono diverse la fine no no è curioso perché e chi dice una cosa dall'altra il compositori in quel caso come riesce a fare questa distinzione no io la faccio perché esiste o forse non esiste ma in arte è nato perché io frequentato scapoli ovviamente la prima zampogna è stata acquistata a scapoli da appunto quel famoso gerardo quadieri quindi mi sono sentito in obbligo di fare questo brano matese invece è chiaro per me perché mia madre appunto è nata lì a quel paesino che si chiama san paolo matese quindi mi sono sentito in obbligo di regalare a questi due territori che tra l'altro sono tutti quanti l'interesse quindi quindi poi avete messo nell'uno e l'altro due pezzi diversi alla vostra anima quindi perché sono diversi sì 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 ma in pratica per quanto riguarda la zampogna a partire sia all'uno che all'altro territorio per motivi diversi ma sicuramente a partire sia all'uno che all'altro territorio maestro vogliamo chiudere parlando dei vostri dei vostri ragazzi i vostri gruppi all'ultimo gruppo che voi conquistate suonami da come siete partito se vuoi parlare menzionare qualche personale passato a ruta libera io ho avuto tantissimi tantissimi gruppi sono partito per la verità isernia dove io vivo ha un interesse notevole per la musica ci sono stati tantissimi gruppi musicali con quali ho praticamente ho collaborato un po con tutti il gruppo che ricordo un po di più del passato che non era ovviamente come quello di adesso utilizzava addirittura chitarre elettriche e strumenti elettronici che se si chiamava il tratturo anche il nome la dice lunga su quella che comunque era il nostro il nostro repertorio il tratturo il tratturo e quella via straordinaria che crede che 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 i nostri bastoni voluta voluto dai re aragonesi dei regali di aragonesi che i miei di spagnoli capirono l'importanza della della pastorizia e crearono le prime autostrade al mondo poi in partito della russa arrivarono so di sana gandolfi arrivano fino al tavolo delle puglie quindi strade di sei metri l'arche dove passa e c'era furono gli aragonesi prima a capire l'importanza dei dei tratturi sì 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 e dopo di che c'è un gruppo che mi sta nel cuore che se ce ne sono tanti e ecletnicapacus in verità ecletnicapacus è quello che forse mi ha dato non dico più soddisfazione ma mi ha fatto crescere moltissimo anche perché i miei colleghi musicisti erano musicisti straordinari ovviamente docenti di conservatorio l'organico era composto da un'arpa l'arpa classica da un oboe e il clarinetto basso poi ovviamente io suonavo la zampogna e c'era il collega che mi ha sempre accompagnato da andare sempre con l'organetto quindi questi strumenti ecletnica questa provocazione che uso anche adesso nel nuovo nel nuovo gruppo l'ultimo gruppo si chiama piccola orchestra ecletnica piccola orchestra perché siamo sette persone per cui una piccola orchestra ecletnica sempre col solito significato questa provocazione di di questo di di questo aggettivo che vuol dire che che vuole appunto che si sdoppia in in etnico ed eclettico etnico ovviamente perché il nostro concerto si sviluppa soprattutto sugli strumenti etnici eclettica ci piace definire così la nostra musica perché si rifà un po' la tradizione un po l'innovazione un po al classico un po l'aspirazione di ciò che viene di ciò che mi viene in testa in quel momento rispetto a quello che sto pensando e in ogni caso penso sempre maestro voi sapete che adesso un periodo in cui si assorbe cultura ma se ne fa poca di cultura napole l'unico posto al mondo dove ancora si fa cultura ben assorbita voi siete uno di questi maestro adesso il vostro stile musicale è in equivo capire voi non avete fatto che fate cultura avete creato cultura sentire il vostro la vostra musica si capisce subito questo è piero ricci e quindi avete fatto qualcosa di straordinario ripeto io la prima volta vi ho ascoltato è stata a coreno dagli amici di alessandro e le aerte siamo rimasti incantati infatti chiuderemo questa chiacchierata con un pezzo di quel giorno per esempio non era un giorno straordinario perché mancava un elemento molto molto però sì sì mi ricordo però ci avete regalato dei momenti incredibili adesso esiste la musica di piero ricci che non è una cosa da poco ma grazie a tutti questo ma questo fatto mi dà molto coraggio di continuare questo in termini di concerto invece questa esperienza questa cosa bella che tante persone mi dicono mi dà tanto 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 coraggio mi fa andare avanti ma in quanto qua parlavo anche del compositore piero ricci e vabbè ma del compositore piero ricci il compositore piero ricci è nato così con la disarmonica sono di faccia la mia mia figlia sulla chitarra classica l'altra su di faccio sono tante cose la musica bella la musica bella il fatto che io abbia avuto lo che ti ho avuto la possibilità di di essere perché poi può essere compositori a tutto tondo non è una cosa molto difficile perché noi o mai le composizioni moderne sono tutti uguali infatti molto spesso questa è una cosa bella permette non ha molto spesso mi dicono che con il con un brano mio con un brano mio che ha molte evoluzioni gli altri ce ne fanno tre o quattro perché non è sempre uguale si modifica quello è maestro è questa è questa la differenza fra chi fa cultura e chi l'assorbe la cultura chi fa arte e chi l'assorbe è un po io riconosco oggi carlo faiello che fa questo fa anche piero ricci ma poi il resto sono quasi tutti uguali alessandro parente pure fatto qualcosa di innovativo ma andando in giro alla fine non è semplice suonare la vostra musica se non è bravo la nostra musica è musica composta e scritta perché poi si va e nel vostro stile non è semplice come lo stesso io ho visto fior di musicisti suonare o improvvisato con carlo faiello andare in grosse difficoltà e credo che anche con voi farebbero la stessa cosa perché avete creato veramente io scrivo la musica uno stile unico la scrivo la musica la do ai miei amici la studia e poi si prova tutti assieme ovviamente però sapete si può improvvisare in una musica normale ma quando comincia a delle difficoltà ad improvvisare quando si improvvisa a tipi di musica vuol dire che non che il musicista è scarso ma che quello che si sta suonando ma quello che si sta suonando non è cosa semplice no no la mia musica non prevede l'improvvisazione ma non è possibile assolutamente certi versi per tutto assolutamente sì sì ma infatti è però vi ripeto è la musica di piero ricci adesso speriamo che vada avanti questa storia nel migliore dei modi e soprattutto poi speriamo che vada avanti questa scuola speriamo che ma maestro voi innanzitutto avete dato molto e lascerete molto ai posteri da quei prossimi cent mille anni avete lasciato se avete lasciato il segno questa la mia soddisfazione quella che che mi prendo quella che mi posso prendere sinceramente è quella di aver iniziato iniziato questo percorso che adesso tante tante persone state tante stanno stanno seguendo e questo mi dà tanto tanta soddisfazione perché insomma evidentemente forse ci ho visto giusto e il fatto che tante persone si interessano a questo strumento a questo tipo di ma questa è l'umiltà che appartiene grande come lo scritto in quei quattro righe che anticipava il vostro concerto c'ho quando sento ho sentito la vostra musica è come se stessi sentendo me stesso come stessi suonando io perché al pure a livello antropologico sentivo le note della mia terra mia terra tra terra di lavoro morise la zona del mare pure zamponia e quindi mi sentivo mi sentivo sentivo me stesso che sembrava io che stessi suonando l'antropologico è una bella soddisfazione assolutamente perché abbiamo detto batti lo scritto ho detto ma passa sembra che sto suonando io che la musica in jazz e cromani sono solo un ascoltatore maestro io vi vi ringrazio è stata una bellissima ci sarebbe stato molto altro da dire però ce lo conserveremo per altre occasioni spero che voi siete state bene con noi veramente grazie è stata veramente una bellissima serata grazie di tutto grazie a voi grazie a voi grazie ciao ciao a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.